secondo le statistiche di youtube solo l'un per cento di guarda i miei video iscritta al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie la mamma del manu andava in giro per la trada mini 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 almeno le ultime due devi conoscerle per forza se no come cazzo vai vincere a caso vinci mi sembra che lei era dietro mi sembra questo dire sono fuori deve sempre fare il permaloso andiamo signori focus e concentra ora sono calmo buongiorno max bid grazie davvero saion so che è un lavoraccio che t'hai costato lo so lo so lo so eh ma questi pazzi domani fanno le cose io te lo dico e quindi è un macce no la prego saion la prego non non faccia non faccia non faccia io ho 500 corone spaccate è meraviglioso saion se arriviamo a 10.000 sub io vado nudo in piazza duomo a milano col cazzo fuori così proprio così ora io non andiamo mi ha grabbato 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 che tua madre venga grabbata da un gruppo di cazzi di cazzi perché è una puttana tua madre bibino me la inculo io me la inculo io glielo infilo talmente dentro nel culo che anche i coglioni gli entrano bibino glorioso tua madre è una puttana ingoiatrice di cazzi i coglioni gli ficco a quella puttana figlio di puttana figlio di puttana uomo di merda fallito dal cazzo ameba di merda rifiuto umano rifiuto umano tu è quella puttana di merda spero che facciate una vita di merda federico laugenini ciao bello o laugenini ciao caro la cecchinata mentre slidavo signori signori la cecchinata mentre slidavo per nesto 900.000 spaccati in questo momento merda wow complimenti applausi a chi non è che pare di 900.000 signori signori siamo i quinti in Italia a raggiungere i 900.000 che cazzo fa ronni che cazzo fai non farlo adesso dai credo io ronni vado con il mio suino io il mio suino lorenzo l'ho chiamato Loren è già vinta let's go focus and concentration dai 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 vediamo quante persone passano qui 8 eliminati bisogna vedere se ne vanno giù 8 con calma mi ha tenuto e siamo goduti in 2 si capisce ogni tanto le persone come giocano ma va bene questo mi ha tenuto siamo volati giù in 2 eh infatti 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 è quello che ti stavo dicendo Marco se facciamo una roba del genere la facciamo god è un lavoro lungo lo ha fatto proprio eh si Sion no non si può fare una roba veloce per un aller così delicato eh eh ragazzi ma se la gente non c'è idea siamo andati giù in 2 perché sto coglione mi ha grabbato boh ragazzi io ho problemi c'è uno qua ah ok sono italiani easy riportiamo istante ma che cosa che sto fai e tutti contro tutti se doveva ammazzare ah si ha ragione ha ragione mi dispiace mi dispiace ho dovuto i head tu però ho capito non devi devi gioca un po' devi gioca un po' camperata io ho un powerone qua oh power ma che è ma ci sta ma c'è power che sembra un scoiatolo con le palestre figa mela, ciliegia, banana, uva arancia, mela, ciliegia, banana, uva arancia, mela, ciliegia, banana, uva grazie sion così stasera fixo molto figo F certo saluto il bura ciao bura e alcune cose sai non possiamo saperle finché non ci arriviamo si è lanciato dice ah stava aspettando no non andiamo su quell'altro aspettiamo che scende di qua porco porco il cazzo manu ha fatto il pazzo ma che cazzo fa che cosa cosa cazzo fa oh manu il pazzerrello all'axiuderello si è abbonato qua che cazzo fa 39 a quello di sinistra infatti dobbiamo fare sempre più di 50 oh ma io non dè ok veramente prendi danno saltando da lì ok easy devo pensare a 108 mila cose assieme se fai un errore sei giù che devo fa mi ha tagliato mi ha tagliato mi ha tagliato bravo ha tagliato signore che cazzo devo fare raga bravo bastardo bravo bravo tua madre che succhia i cazzi bravo tuo padre che succhia i cazzi merda ragazzi leggo un marco che scrive 00